Hey! Nothing you can say! Cause he's gonna train what you've done to me! Now it's time to shine! I'm gonna take one man! Non c'ho l'audio, perchè? Ok. Scusate! Cioè ci sono i nostri ping che salgono, scendono un po'... Beh... Taglia del cuore! Oh, Twitch di merda! Dov' s'era? Ho fatto l'ho fatto! Eh dai che te scondo la trappola! Mh? Ma distrutto la trappola? Ti chiudo qua? Sì! Sì! Perchè non mi piazza la trappola? No! Dov' s'era ancora un po' del... Attento qua! Appena detto, appena detto! Tranquillo, tranquillo! Ho fatto il buco apposta! Ho il Twitch di merda, come del porco! Assemble a sinistra? Sì! Ok! Porca troia! Ha fatto la botola, è entrato addirittura! Che velocità! Morto? Sì sì! Però pure la finestra, ragazzi! L'ultimo nemico rimasto! Pippo, ho... Ah no, ho fatto questo muro! Muori! Non l'abbiamo chiuso questo muro, raga! Bravo! Gigi! Raga, Gigi! Eh, super, eh! Con quell'Akog lì! Che te l'ho detto! Ah sì! No, devi star fermo! Cioè, c'è da fare! Mi starebbe acazzato! In difesa l'Akog mi dà la cosa più fastidiosa che c'è, secondo me! E' la zona ieri, Aldo sto qua, mi sapevo... Cioè... Sono appena stato e sora di povero! Eh, te hai capito dove andare, eh! Cioè, da dove entrare? Eh, dipende! Ecco, che cosa sta andando in open space, eh! Esatto, eh! E' quello di cui dipende! Andiamo a prenderlo, raga! E' qua da noi! E' qua da noi! E' qua da noi! Siamo spawnati tutti qui! Oh, ciao! Cazzo! Dana! Dana! Oh! Orco Dio! Andiamo a prenderlo! Cazzo, mi ha fatto il drone! E' qui! E' qui! Quella troia! E' qua! E' qua! E' qua! E' qua! L'ho ferita, eh! Bastarda! Sotto! O c'erebbe che è qui! Sì, sì! In una serata! In una serata! Che voglia! No, niente! Dai! Non mi posso ora! Sì, sì! Oh! Grazie! Mi controlla un attimo a sinistra! E' stato sopra di me, Pipo, eh! E' stato qualcosa sopra di me! E' qua! E' qua sopra! Ma ferita! Ok! Si, si assiste! Ottimo! Ottimo! Buono! Bravo! E' tutto chiuso, sì! Ma nessuno ha da sfondare, no, eh! Sfonda qua, col Bartelli! Io, 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 ragazzi! Dove sei? Dove sei? Io, io, ragazzi! Io, 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 io! Bravo! E' qui, è qui! Bravo! Ma ma che attacco! Ma ma che attacco! Dio, il cane che attacco! Mi ha fatto, Suga! Ardeo! Eh? C'è qualcuno! Ciao, non sei spesso! No, l'ho fatto un altro verso un buchetto! Quello per i droni! Troppi a casa! Madonna, quanto rosso sta stanza! Brucia gli occhi! Ho, te lo sponchile! Wow! Ho smesso! Beh! Ti fermo una casa, me ne sto urlando! Facciamo uno qua! Mo! Mo! Pippo, una finestra, sì, una Pippo! Una no! Passo! 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 Tranquillo! Porco Dio! Messo me troppo lo sciottano! Mettetelo spinato sulle scale dietro per piacere se ce l'avete! Eh, ma vabbè, hanno messo Castor! Il contenitore di Bioricchio! Mi avete? Buona, buona, bene, bene! Buona, buona, bene, bene! Oh, oh, oh! Grazie! Non so, il suo bene, eh, oh! Ok, allora lo sponchile! A far culo! Oh, merda! Coperti, 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 andrea, andrea, coperti! Negri! No, Dio, cale giù per le scale, uno c'è neanche un altro! Non l'ho mattato solo un mongoloide, scale 2! Gua, gua, gua! Gua, gua! Luca, scale 2! Lo so, l'ho visto, l'ho visto! Poi ci esce! Sto stronzo prima o poi mi ammazza di... Sempre qua, Andrea! Eccolo! Via! No, non ce l'ho fatta stavolta! Oh, merda, no! L'ho fatto! Ciao, Luca! Bravi! Un diamante che mi piace, eh! Ah, sì! E anche gli altri non penso ci vadano molto di... E neanche un grado... Un grado soft! Parca putta! Un grado soft, proprio di dire! Buona! Buono! 280 di livello! Stai male, tu vecchio mio, mi dispiace! Bene, ti ricordi anche a 300 e... 322, sì sì, una roba incredibile! Una roba fuori da normale! Io non so... Lì mi sono dovuto spostare che c'era la finestra aperta, Dio caro! E sto qua che mi puntava, Dio! Porca! Ho un bel posticino lì! Il signor Otto è caveira, eh! Molto bene! È lui? Bene! Perché non lo so fra nessuno caveira, non so... Te vedo la gara sulla telecamera, Luca! Eh sì, anch'io! Eh, perché è hosti! È il tuo hosti! È il tuo hosti! Ma su, serio? Sì! Tanto? Provate a guardarmi un attimo finché coro! Coro iscoordinatissimo! Beh, vabbè, ma poi sarà... No, no! Correre no, Luca! No! Mi ha problemi dei noci o... Cazzo ci fa una trappola qua! Cazzo ci fa una trappola qua! Cazzo, lo sei tipo... Cucina! Ah, Jäger, Frost e Mira dentro! Cazzo! Noi due tritte! In sopra! Uno qua sopra! C*****! Salta sto cazzo! un po' dentro oh sei morta male da me da me da me qua sopra copritemi ricarico è qui dentro, vedo il laser ah no quello di jager scusate bravo, bravo cosa cazzo era? perchè... beh vabbè oh cunno, vabbè siamo riporti peceria eh chi è che è il monaco? oh cunno, vabbè what the fuck perchè con questo ti posso shottare anche le gambe quindi forse aspetta aspetta raga non ci penso io a fare una cosa aspettate vado a uccidere e a morire vado 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 di occhiale aspettami l'ultimo nemico ha individuato il contenitore di biorischio che è rimasto solo oddio mi ha laggato, che è? dov'è 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 ho sentito? nooo è proprio lui incredibile ma è il farmò? no 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 che mestiero quel black and decker senza situazione svegliava navitatore effettivamente che mestieranti non ha ragionata per diamante comunque eh no poverino ha incontrato la squadra sbagliata è un diamante da illustrare chiamate grezzo come si può dire molto grezzo quando vuoi partire francusso dillo noi non ti giudichiamo ma che dove fai la ricerca in automatico? non capisco ma hai pagato il plus? per la ricerca per la ricerca automatica ha pagato Luca Tarquini no 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 per la ricerca automatica sennò tocca farlo manuale cercare casa per casa esatto grazie per aver seguito il video se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao